National Baltic che da largo cerca di convergere alla corda, riesce all'imbocco della prima curva scavalcando Medin-K-Dete, a largo interviene Itz Strong LF, Itz Strong sottopone National Baltic ad un primo parziale notevole. 14 secchi in lancio, National respinge Itz Strong che si accoda in seconda posizione davanti a Medin-K-Dete, quarto notevole in 29.4 che potrà influire sull'esito conclusivo. Allargo Nancy Kampf con ischiena Macario Lewis, immediato il rallentamento del leader, 45.8, 616.3 di ultima frazione, National Baltic Itz Strong LF, allargo Nancy Kampf con ischiena Macario. Completamento del primo giro, 1-1-7, una frazione ultima in 16, un quarto in 32-3. Nancy Kampf ai lati di National Baltic che addirittura paga 1,42 per il vincente. La mossa in terza ruota dell'insofferente Macario Lewis, primo chilometro in 17.2. National Baltic, Nancy Kampf, Macario che torna in seconda pariglia. Lungo la corda sempre Itz Strong e Medin-K-Dete. In terza pariglia, Nilo Azzurro. Riprende di nuovo Fiato con una frazione in 16.5, National, si riattacca alla mano del suo interprete, si tiene ai fianchi Nancy Kampf. Curva in 16.2, riprova a largo Macario Lewis che si trascina Nilo Azzurro. Adesso deve allungare National Baltic, ma nello stesso tempo deve tener chiuso anche Itz Strong alla corda. Lavora di fino per il momento Vincenzo D'Alessandro. 2-5 il miglio, National Baltic con ai fianchi Macario Lewis. Lungo la corda Itz Strong che cerca il barco, poi Medin-K-Dete. Allunca National, National Baltic oggi è quello dei giorni migliori, se ne va. Netto nei confronti di Itz Strong, mentre per il terzo Niagara Lewis termina forte e raccoglie il terzo compenso. Presentato alla grande da Antonio Improda, National Baltic, portacolore della Top VIP e guidato di fino. In punta di Fiorento da Vincenzo D'Alessandro va a concludere netto. 1,42 euro la quota del vincente. Al secondo, Itz Strong LF precede via Gara Lewis. Quindi arrivo probabile ed ufficioso. 5-6-7.